Ciao ragazzi, Zeffy qui e oggi andiamo a vederci assieme il game 3 tra i Weibo e T1 nella finale dei mondiali di quest'anno. So che è passato un po' di tempo ma vi avevo promesso tutti i game ed ecco qui anche l'ultimo. Ne approfitto anche per augurarvi un buon periodo di feste, divertitevi, non mangiate troppo e ci beccheremo direttamente l'anno prossimo per la nuova stagione di League of Legends. Detto questo andiamo subito ad analizzare le draft e infatti per la prima volta i Weibo decidono di bannare Renata dato che negli ultimi due game hanno dovuto giocare contro Renata più un bulletto, abbiamo visto sia Kalista nel game 1 che Draven nel game 2. Anche Ashe è stata tolta dalle grinfie della botlane dei T1 e sull'altro lato oltre ad un paio di bann sulla midlane abbiamo anche il Rumble che ritorna. Infine per i jungler è stato tolto Jarvan dalle mani di Honor e quindi vedremo cosa potrà giocare in questo game. Passando ai pick visti i due bann sui midlaner i Weibo decidono di prendere subito a 0 dato che è un pick molto conteso tra i due midlaner e non vuole sicuramente lasciarlo libero a Faker. E qui abbiamo un cambio di tono da parte dei T1, infatti loccano subito la loro botlane dove tuttavia non è una bot da bulletti. Certo hanno molto potenziale nel 2v2, tuttavia avendo un melee come support è molto facile essere counterpickati e di conseguenza trovarsi a perdere pressione in lane e non avere controllo del bot side. Il vantaggio che hanno prendendo questa coppia è proprio che non rivelano niente agli avversari. Infatti la loro draft può andare in qualunque direzione, visto che sia Xayah che Rakan sono molto flessibili e possono coordinarsi bene con diversi tipi di teamfighter e addirittura diversi tipi di strategia che non riguardano nemmeno i teamfighter. I Weibo prendono la palla al balzo e rispondono subito alla botlane, prendono Varus che potrà decidere se giocare Lethality o Onita e al suo fianco rubano il Bard di Caria, tuttavia questa è un po' una sorpresa dato che Crisp non ha mai realmente giocato Bard nella sua carriera e questo è un test per vedere se è a livello di battere il T1 utilizzando questo campione che ha uno stile molto particolare. Prima di andare a vedere il prossimo pick dei T1, mi voglio soffermare ad analizzare la draft dei Weibo fino a questo punto. Infatti tutti e tre hanno un punto debole che tuttavia è difficilino da leggere. Azira, quando fighta, vuole che i nemici stiano all'interno dei suoi soldati. Certo, ha un po' di mobilità per se stesso, ha una ulti per riposizionare gli avversari, tuttavia la sua partita si complicerebbe parecchio giocando contro nemici che si muovono un sacco. Varus, essendo una di carri senza mobilità, si trova a sua volta a soffrire molto chi ha tanti dash o molta velocità, dal momento che può essere raggiunto più facilmente e di conseguenza navigare il fight e trovare lo spacing giusto dove attaccare diventa una missione molto più complessa. Per quanto riguarda Bard, una delle sue specialità è proprio quella di bloccare i nemici con la Q e soprattutto con la ulti. Tuttavia, anche per lui questi sono degli skillshot che soffrono nemici che si muovono tanto. E questo dettaglio non sfugge assolutamente ai T1, infatti come midlaner optano per un Akali. Questo vuol dire che, in early game, Azira può cercare di prendere il push su Akali, soprattutto se va per una runa da bullo in laning phase, come ad esempio l'Hail of Blades o addirittura l'Aeri contro un melee. Anche la botlane di T1 verrà pushata a causa del doppio ranged contro un support melee, ma il pick di Akali in questo caso non è per vincere la laning phase, anche se dopo il 6 può comunque cercare di minacciare un po' a zero con degli all-in. L'idea è proprio avere un teamfight dove Akali al momento non ha nessun pericolo. In generale i controlli sono buoni per tenere a bada un assassino, tuttavia nessuno di questi controlli può realmente gestire la mobilità di Akali. A questo punto passiamo alla seconda fase di ban e i T1, che hanno già due campioni molto mobili, decidono di togliere Poppy, dato che non solo è una regina nel bloccare i dash nemici, ma in più avrebbe avuto una fantastica sinergia con Azira e con il fatto che il suo muro può funzionare per stunnare i nemici con la sua carica. I T1 tolgono anche Xante per evitare un blind pick molto safe nelle mani di Deshae, visto che appunto i T1 avranno il counter pick non vogliono counterare qualcosa che è difficilmente counterabile. I Weibo invece continuano ad attaccare la pool di Honor e allo stesso modo tolgono un top laner che potrebbe dare fastidio a quella che è la loro idea di blind pick in questo momento. I T1 decidono di optare per l'e-sin, quindi qua stanno proprio cercando di spikeare in early mid game. Per sé sarà abbastanza difficile fare qualcosa in mid o in bot con le lane che hanno al momento, tuttavia il potere di skirmish nel mid game diventa elevatissimo e chiaramente anche l'e-sin ha una fantastica mobilità, cosa che come abbiamo detto rovina parecchio i piani dei Weibo fino a questo punto. In risposta i Weibo prendono la Velvet come carry jungler e grazie al fatto che hanno già due lane vincenti potrebbe trovare tanti invade e mettere davvero in crazy il le-sin già dai primi livelli. Infine come pick, safe in top lane in blind pick decidono di prendere Kennen e di per sé è un buon campione per fare peeling su una backline che fa tanti danni. Tuttavia soffre anche lui la mobilità dei nemici, visto che quando ulta praticamente tutti possono uscire, tranne Xayah che però può utilizzare la propria ulti per evitare quella di Kennen e cercare di riposizionarsi prima di essere stannata. E ora tocca i T1 con l'ultimo pick e decidono di prendere Aatrox per Zeus, il che significa che anche la top lane sarà sotto pressione in early game, vuol dire che Velvet potrà invadere come ne pare e che i T1 in questo caso non decidono di draftare per bullizzare le lane dei Weibo, ma piuttosto per avere un formidabile teamfight in tutto il mid-game. Grazie alla loro altissima mobilità, il fatto che abbiano 3 mili davvero pericolosi, supportati da un Rakan che può ingaggiare per loro e fare controlli, e una Xayah che cercherà di giocarsela abbastanza safe da sola in backline, e più il proprio team riuscirà a creare pressione sulla backline nemica, più Xayah sarà libera di fare un po' quello che vuole dato che verrà ignorata. I Weibo in questo caso hanno davvero tanto scaling, il problema è che rischiano di averne un po' troppo contro quello che i T1 hanno mostrato fino ad adesso. In più c'è la grossa incognita di Barda, perché in questo game sia lui che Velvet, avendo lane vincenti, possono romare tantissimo e creare un sacco di occasioni. Tuttavia la difficoltà sarà proprio nel mid-game, quando la mobilità dei T1 renderà molto più difficile fare qualcosa ai Weibo. Senza dilungarci troppo direi di andare direttamente sul campo a vedere come è stato eseguito questo game. Prima di partire vi faccio alcuni annunci rapidissimi dato che è l'ultima volta che ci sentiamo fino alla prossima stagione. Primo annuncio, se volete giocare o coachare in una delle mie squadre, ho appena pubblicato il progetto per il 2024. Vi invito a dare un'occhiata al video in cui spiego come funziona, parlo di tutte le novità, del campionato interno, dei miei coaching alle squadre e il resto delle attività che ci saranno. In descrizione vi lascio sia il link al video che il link al modulo per iscrivervi. Secondo annuncio, ho pubblicato anche Masterclass, il progetto per migliorare nel vostro ruolo. Anche per questo vi lascio i link in descrizione. Purtroppo, top e mid hanno le classi già piene e rimangono pochi posti per i jungler, gli adcari e i support. Quindi se vi interessa, andate a cercare subito i link che vi lascio in descrizione. Terzo annuncio, ho modificato leggermente il club competitivo di cui vi parlavo e ora l'iscrizione non sarà più per un anno intero, bensì sarà mensile o a split. Il costo è passato a 7 euro al mese per 4 sessioni di analisi di partite competitive in mia compagnia da 75 minuti l'una. Anche per questo progetto vi lascio link per i dettagli e il modulo di iscrizione sotto a questo video. Ultimissima cosa, in questi giorni ho fatto un evento natalizio con le mie squadre con un playoff tra di loro, un torneo 1v1, una cerimonia di apertura con talent show e una premiazione finale. Ho stremmato e commentato tutto in privato, ma se qualcuno di voi ha voglia di guardarsi i video, vi lascio tutti i link disponibili in descrizione. Si tratta di un evento for fun, quindi prendetelo come tale. Buona visione e buone vacanze. Partiamo subito con il game e l'azione comincia istantaneamente, infatti abbiamo Crisp che va a mettere un award nel cespuglio della top lane prima di recallare e cambiare trinket. E questa award è davvero utile per Kennen dal momento che può utilizzarla per arassare Zeus e impedirgli di rompere visione con lui. Allo stesso modo non consuma il trinket giallo di Pikachu, vuol dire che poi potrà utilizzarlo per proteggersi dai Ganka. Vi faccio notare anche come in questo momento Karia sia in posizione per proteggere da un invade di Velvet a livello 1. Allo stesso modo anche Aatrox rimane nei paraggi e addirittura qua dà un leash super potente a Lee Sin sapendo che tanto non può contestare il push in top lane e di conseguenza aiuta il proprio jungler e impedisce a Velvet di creare un vantaggio da subito come abbiamo visto fare molto spesso. Inoltre c'è un conquistatore su Azera e questa è una cosa che Faker nota subito e infatti già da adesso inizia a cercare il push sulla mid lane cosa che generalmente non può fare contro delle rune più aggressive. Di conseguenza tutte le prio che avevamo visto prima non saranno del tutto così almeno sulle prime due wave Faker riuscirà ad avere il push poi chiaramente piano piano Azera lo recupererà e questo permetterà a Velvet di eventualmente invadere. Notiamo anche quello che fa Lee Sin perché dopo il suo primo campo scende e va a fare i campi del bot side per poi poter risalire. In questo caso non si è fatto invadere i polli non c'è un timer sui polli da parte dei Weibo e dato che la sua strada fa diciamo due inversioni di mappa scende e poi risale diventerà molto difficile da traccare per i Weibo e anche da invadere. Intanto vediamo appunto le lane che iniziano ad essere schiacciate Zeus non può realmente farmare la bot lane in realtà può farmare con un po' più di tranquillità tuttavia non può vincere il push dato che appunto Bard ha molto più controllo di Rakan ai primi livelli. Invece per quanto riguarda Velvet è partita con il giro da una giornata e mezzo come lo chiamo io dove fa prima i due campi che respawnano in fretta poi la red poi sale a fare i tre campi in topside e adesso probabilmente cercherà uno degli scattol e rifarmerà i due campi che ha già farmato inizialmente. Lee Sin conclude adesso su il suo red e abbiamo The Shire che sta pushando una grossa wave verso la torre di Aatrox. Aatrox potrebbe anche essere a rischio dive tuttavia Lee Sin è già qui per coprire e infatti fa i golem. Inoltre grazie all'aprio di Fekera c'è questa ward che individua Velvet mentre va verso lo scatto l'inferiore e questo permette a Lee Sin di cercare un gank sulla top lane. Hanno visto che The Shire non si è mai spostato in questo caso Lee Sin non viene individuato l'animaletto lo vediamo solo noi terza Q di Aatrox per setupare il knock up e adesso The Shire non può andare da nessuna parte neanche se flasha e questo rovina decisamente quella che era la laning phase di The Shire e praticamente per il terzo game di fila non riesce ad avere un vantaggio iniziale contro Zeus cosa che chiaramente è molto importante per i Weibo visto che The Shire era uno dei loro punti più cruciali per arrivare in finale e eventualmente riuscire a battere i T1. Honor subito dopo lo scatto decide di fare un gank in mid lane qua abbiamo Fekera che ingaggia la Q di Honor va a vuoto Fekera tanca un colpo di Torre in più per permettere un eventuale follow up di Lee Sin in risposta i Weibo cercano un gank in bot che riaffa la cosa giusta finché la sbaglia e quindi viene ucciso infatti utilizza la W per bloccare gli avversari in modo da impedire a Gumayushi di essere ingaggiato tuttavia nel usare la propria Ye su Guma la seconda Ye per tornare da Guma la timer è un pochino tardi rispetto al knock-up di Belvet viene stoppato al suo dash e quindi è costretto a bruciare il flash ma flash prima che la freccina di Varus sia stata rilasciata e non riesce a doggiarla di conseguenza una kill in risposta sul lato opposto per Weibo molto utile per Light tuttavia non mette in difficoltà Guma Yushi infatti Guma ha potuto farmare tranquillamente chiaro ha perso il suo support ha perso il ghost ma non è così tanto problematico in questo momento in top abbiamo i due top laner che usano il TP abbiamo Zeus che pusha la wave va a mettere una ward tuttavia viene individuata da parte dei Weibo e c'è Crisp in questa zona Crisp da solo assieme a The Shai che non ha ability power al momento difficilmente possono fare la kill su Zeus ma visto che non succede nient'altro in mappa era a canna e in bot lane quindi non c'è il rischio che stia romando anche lui in top possono prendersi il tempo di aspettare la belvetta partono in questo momento Zeus poppa subito la ultima non al flash dato che ha già setupato il gang precedente e questa è una kill che va nelle mani di Weiwei quindi un'altra opportunità creata dal jungler dei Weibo che permette loro di ottenere un vantaggio nelle lane in risposta ai T1 si prendono un drago abbiamo dei Shai che ulta la wave per pusharla il più in fretta possibile e negare del farm a Zeus in risposta i T1 che hanno molto più controllo del bot site per almeno una decina di secondi prendono una placca cercano di negare del farm a Varus tuttavia grazie al range di Varus riesce a prendersi il carretto barde alle sue spalle e quindi è di nuovo safe vuol dire che in questa situazione una placca bonus e un drago extech per i T1 come farm invece siamo in favore dei Weibo dato che Light appunto ha farmato tutto quanto e Aprox purtroppo ha perso parecchie delle risorse che stavano andando verso di lui la mida è stata abbastanza silenziosa ma come farm non si è messi per niente male per Faker e dato che siamo a 7 minuti adesso tutti quanti cercheranno un recall per giocare sull'Herald e vedremo come le botline si muoveranno verso il Rift soprattutto dobbiamo tenere d'occhio i support visto che il controllo in questo momento è nelle mani dei T1 viene Weiwei a cercare di mettere un po' di pressione sulla botline dei T1 soprattutto su un carry che non ha flash quindi deve fare un pochino più di attenzione e di conseguenza vedremo se questo permette a Weibo di spostarsi verso l'Herald più in fretta rispetto agli avversari di Sina già recallato adesso sta facendo di nuovo i suoi golem abbiamo Faker che va a mettere di nuovo una ward sui polli di Belved un ottimo modo di traccarla inoltre ha una wave in push verso di sé dato che ha portato la wave a spasso e è riuscito a metterla in frisa e quindi creerà ulteriore vantaggio di esperienze di gold in mid lane grazie a questo recall Crisp si stacca dalla botline può salire vediamo Rakan che ha recallato quindi anche carry avviene verso l'Herald tuttavia i due di carry stanno andando in bot e quindi avremo un potenziale 4v4 nel quadrante superiore della mappa i due support e i due mid sono attorno alla mid lane tuttavia questa combo è ranged quella avversaria a melee e quindi prendere la preo diventa più facile c'è un Kennel che sta cercando di pushare la wave in top Onar ne approfitta dato che ha già controllo del fiume ma Belved è alle sue calcagna in questo caso Onar fa il warjump calcia il nemico provano a barstare The Shy gli prendono ulti gli prendono flash sono super contenti di questa cosa tuttavia c'è la priorità in mid per gli avversari vuol dire che non possono girarsi in due su Belved proprio perché stanno arrivando rinforzi e a questo punto anche carrier raggiunge la top lane tuttavia è troppo tardi vediamo anche in bot lane in due ad carry che preadano ulti preadano ghost ma non non combinano granché le car finalmente arriva verso lo scontro ma non avendo avuto l'aprio non è arrivato in tempo per fare qualcosa e IT1 stava andando molto bene perché rubare sia flash che ulti per solamente un calcio di Lee Sin ad un Kennen è fantastico subito prima di un teamfighter purtroppo però quando Belved è arrivata non si sono potuti girare su di lei dato che appunto i rinforzi arrivavano prima per gli avversari abbiamo un altro scontro qua tra Guma e Light Guma stava cercando di richiamare più piume assieme per trovare la killa ma Light stava doggiando letteralmente ogni piuma quindi Guma è stato costretto a ritirarsi senza trovare niente e qua abbiamo di nuovo la situazione di prima con il war jump di Onera dove trova il calcio sul muro fa la sua combo di burst e qua IT1 sono contenti purtroppo però se vedete ci sono anche un sacco di ping sulla minimappa che dicono via 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 se combattete contro Belved rischiate di morirci il flash di Onera è anche un pochino sfortunato perché doveva farlo un po' più verso l'alto evitare il knock up forse sarebbe riuscito a sopravvivere era comunque una situazione close dato che c'era un barda che gli stava tagliando la ritirata questo vuol dire che i Weibo si ritrovano ad avere una gold lead di più di 1000 gold a 10 minuti tuttavia non sono realmente riusciti ad invadere con la Belved hanno trovato un paio di gunk nelle sideline e hanno trovato questa azione attorno al Rift Herald hanno ottenuto il Rift Herald che è molto pericoloso su Belved soprattutto per appunto iniziare ad ingrandire questa gold lead però non so se è abbastanza per contrastare il mid game dei T1 soprattutto il loro teamfight con altissima mobilità come dicevamo nell'analisi nell'analisi della draft e adesso andremo a vedere come queste cose si ripercuotono sul mid game abbiamo 30 secondi al prossimo drago e per i T1 chiaramente non c'è la possibilità di una soul extek tuttavia qualcosa come un mountain o addirittura un infernal sono ancora disponibili quindi vedremo che cosa poppa e qui abbiamo i Weibo che decidono di utilizzare la priorità sulla mid per evocare il Rift Herald usare tutti i mostri chatoli di Belved per il push prendono un paio di placche e la torre mid rimane a poco più di metà vita vuol dire che se prenderanno un altro Rift Herald sarà facile per loro buttare giù questa torre però abbiamo Zeus con la priori mid che sta scendendo e T1 lo sanno quindi decidono di fare l'engage e c'è anche un ottimo kick da parte di Lee Sin Akali riesce a trovare il danno su Belved che flasha in una posizione super scomoda ed è shy tippa talmente in ritardo che non può nemmeno cercare di avere un impatto viene chiuso dal resto del team decide di utilizzare la sua ulti per guadagnare qualche secondo c'è Guma che lo chiude due kill in favore di Aatrox e se avete notato in minimap Aatrox appena finisce la seconda kill senza chase di utilizzare istantaneamente tippa in top per negare del farm all'avversario che non ha più un TP e per prendere placche i T1 si ritrovano contro un TP di A0 tuttavia non è così problematico visto che sono comunque in 4 non hanno più molte ulti vengono presi da una ulti di crispa però non ci sono i danni non c'è soprattutto la frontline più che i danni nessuno può andare in prima linea per permettere ai due carri dei Weibo di sparare e quindi i T1 se la cavano con il secondo drago la mappa diventa una mappa oceano quindi una soul che non è male non è male per teamfightare non è male anche per splitpushare non ho toccato molto su questo Mighty One se vogliono hanno anche un ottimo splitpush in 1-3-1 quello che però davvero è importante in questo caso è quante risorse ha preso Aatrox in questo fight rivediamo al volo l'inizio del fight perché Lee Sin e Rakan riescono a trovare dei controlli e questo permette ad Akali di fare flash ulti oltre al muro ingaggiare subito e poi inseguire per la kill addirittura non cerca di seguire a zero una volta che hanno trovato la prima kill perché Kennen è fuori posizione e sanno che uccidendo il Kennen hanno sicuramente il drago e qua vediamo il TP di Aatrox mentre lo staff dei Weibo inizia a preoccuparsi un pochino anche per il game 3 i primi due non sono andati molto bene e la gold lead che avevano in questo game è quasi del tutto sparita c'è ancora ma è talmente minima che non dovrebbe essere abbastanza per riuscire a superare il mid game dei T1 quello che volevo dire è che la quantità di risorse di Zeus gli permettono di chiudere il mitico e avere gli stivali super presto in partita contro un Kennen che non sta riuscendo ad avere le risorse che vorrebbe e subito dopo vediamo sia Rakan che Lee Sin che vengono a proteggerlo abbiamo Crisp che controlla il bot side mette una ward la ward viene vista da faker vuol dire che in automatico Caria sa che Bard sta giocando bot side e quindi il top side appartiene a loro la mappa si splitta un pochino a un minuto di distanza dal Rift Eral quindi un sacco di deep ward per i T1 Caria può recallare e ricaricare la sidestone dato che ha già messo un bel po' di visione così anche se gli viene tolta quella ha un sacco di ulteriore ward da utilizzare e faker che ha il TP si può spostare in bot lane pronto a teletrasportarsi se c'è bisogno in alternativa può continuare a pushare abbiamo il TP di Kennen che tornerà tra non moltissimo ma è molto interessante vediamo anche i gold Velvet grazie a tutti i gunk e al Rift Eral ha preso una lead faker è riuscito a rimanere pari praticamente alla 0 che è sicuramente un'ottima cosa per Akali finita la laning phase e grazie a quello che è successo adesso abbiamo un Atrox in vantaggio su un Kennen cosa che per l'appunto non dovrebbe succedere a fine della laning phase invece è successa i T1 hanno un sacco di informazioni su questo lato di mappa hanno faker che ha preso il push e adesso si sta muovendo verso l'alto tuttavia decide di ritornare a mettere pressione e grazie alla mobilità dei T1 un engage diventa molto difficile per i Weibo dato che tutte le loro ulti tutti i loro modi di forzare qualcosa sono legati alla posizione del nemico e proprio in questo momento abbiamo i T1 con i Weibo più o meno sotto scacco dato che stanno pushando la bot con Akali non c'è una risposta quindi faker può fare danno alla torre può minacciare di prendere la prima torre del gioco i Weibo in automatico sono costretti a iniziare il Rift Herald perché se non lo fanno e aspettano i T1 continuano a generare un sacco di vantaggio in gold anche come minion esperienza gold e tutto il resto e quindi i Weibo decidono di forzare l'herald i T1 decidono di contestare e se avete notato Varus non è nel fight qua c'è una Akali che tippa direttamente in mezzo ai nemici non viene nocappata va in pozza si riposiziona il Rift Herald si resetta e abbiamo ancora Light in una posizione davvero scomoda perché non può joinare al suo team c'è anche una ward qui c'è Caria che fa oh questo non l'ho disegnato io anche Riot pensa alle stesse cose proprio perché ci sono queste ward e c'è un Rakan nel mezzo Light non può joinare vi faccio notare anche come i T1 qua inizino il recall avevano la possibilità di provare a forzare l'herald ma l'unica cosa che vogliono in questo momento è che i Weibo non prendano l'herald che Belved non abbia questo nuovo strumento che Belved non possa buttare giù l'attore mid che a loro serve come protezione per la bot lane in generale il trio in tutto il mid game e piuttosto resettano e si preparano a giocare anche il soul point quindi danno più valore all'accumulare draghi rispetto a questo secondo herald l'unica cosa che vogliono è proprio che il secondo herald non cada la posizione di Faker è molto strana perché dopo questa questa piccola battaglia Atrox va in base ha il tp tuttavia scende a piedi verso il drago e Faker ora è molto lontano senza tp se i Weibo iniziano adesso il drago o forzano una battaglia Faker non c'è e i Weibo possono essere in 5 tuttavia i T1 non gli danno questa opportunità e soprattutto i Weibo non la cercano non iniziano il drago non sfruttano questa finestra e dato che aspettano 10-15 secondi di trappo Faker è di nuovo disponibile salta all'indietro quando gli arriva addosso un mostro del vuoto e quindi i T1 sono tutti in posizione Kennen adesso è quello con il vantaggio di TP quello che può pushare e di conseguenza i T1 iniziano l'obiettivo per costringere Kennen a prendere una decisione e Guma raccoglie la Weibo e qua vi faccio notare il positioning dei T1 e anche il positioning del TP mettiamo un attimo in pausa perché c'è di qua un Rakan c'è di qua un Aprox quindi c'è già un doppio flank in favore dei T1 il nucleo chiamiamolo così dei T1 è in questa posizione con i due campioni più mobili e Guma sta cambiando lato perché non vuole realmente flancare con Xayah preferisce essere in coda al teamfighter e sparare alla cosa più vicina la posizione del TP è praticamente obbligata dato che Kennen non ha una bella deep ward nella giungla nemica e l'unica alternativa sarebbe tippare in bot una cosa che i T1 possono vedere grazie alla loro mobilità potrebbero cercare di chiudere per primi l'avversario quindi De Shaya è un po' bloccato su che opzioni ha disponibili rimane comunque il fatto che i Weibo sanno che carry è qui e lo vedranno anche tra un attimino vedremo come si organizzano per questo fight perché è un fight che va premeditato è un fight dove ogni pericolo va gestito in alternativa i carry dei Weibo rischiano di trovarsi subito in difficoltà hanno informazioni su Rakan in questo momento grazie al Trinket Blue ottengono informazioni anche su Aatrox e in generale un tp tipo questo di Kennen non sarebbe male contro una comp meno mobile visto che il suo compito alla fine è proteggere la propria backline e impedire che muoiano i carry mentre stanno facendo danni tuttavia in questo scenario se i Weibo non trovano un engage e hanno davvero poche forme di engage il flank di Kennen è una di queste i T1 faranno quello che gli pare nel team Vita e andiamo a vedere proprio l'esecuzione di questa battaglia perché i T1 pullano il drago e iniziano a portarlo più bassino Zeus si tiene la disponibilità della piantina per saltare in o per scappare che aria viene individuata in questo momento in gaggio ci arma praticamente tutti e qua abbiamo un macello sul flank superiore da parte dei Weibo poi lo rivediamo questo permette a Faker di andare ad assassinare Kennen si riprova in 1v4 ma ancora a pozza visto che non ne ha avuto bisogno finora uccide a zero salta fuori e grazie a un fantastico kick di Honor può rientrare prende una terza kill questo fa morire un ultimo membro dei Weibo in cambio di di Faker anche Caria va giù ma questo è un fight vinto per i T1 che iniziano ad accumulare una gold lead e soprattutto i T1 possono fare il drago quindi soul point messa in tasca a 18 minuti o 19 più o meno il tempo che finiscano e c'è un Varus sul lato opposto se vi ricordate i mondiali del 2022 avrete impresse nella memoria un sacco di situazioni dove le fraccine di Varus hanno rubato Draghi e Baron tuttavia non è il caso qua rivediamo l'engage perché Caria parte con l'engage e già questo praticamente mette i T1 in una posizione vantaggiosa hanno Aatrox che sta flancando hanno Faker che con la proto si avvicina hanno Guma che in questo momento pop al ghost si prepara a fare il suo lavoro e chiaramente abbiamo Honor che può seguire facilmente il disastro di cui vi parlavo è la reazione dei Weibo sapevano che c'era questa questa minaccia del flank e nel momento in cui il flank viene diciamo utilizzato da parte dei T1 partono la ulti di Bard la ulti di Azer e addirittura la ulti di Kennen quindi abbiamo una e due ulti difensive dei Weibo che vengono sprecate completamente dato che Bard mette in stasi tutta questa zona e quindi non c'è il pushback non ce lo sta nel danno ad area del Kennen e i T1 in questo momento hanno gli occhi a cuoricino perché i pericoli sono praticamente tutti andati e da qua vediamo come si comporta Faker perché qua finisce nello stasi purtroppo ripreme lo Shuriken nel momento in cui sta per arrivare la ulti di Barna tuttavia può usare la ulti per inseguire The Shai e adesso usa la pozza per recuperare un po' di energia riuscire a chiudere la Kielsu con un ultimo Q auto flash a fuori Shuriken all'indietro super calcio di Honor che prende Velvet e la butta addosso all'altro avversario e questo permette a Faker di rientrare chiudere la Kielsu Bard purtroppo ci muore nell'azione ma è comunque un fight vinto e addirittura 3 kill su Super Faker che 10 anni dopo ci dimostra che ha ancora le mani e non solo la testa questo è lo staff dei T1 una cosa interessante questo qui è Tom questo è Roach e Roach il prossimo anno da quello che ho visto sulla wikia non sarà più con i T1 Tom si sposterà ad assistant coach e quello che diventerà head coach sarà di nuovo Koma quello il leggendario head coach che gli ha fatto vincere i primi 3 titoli mondiali e quindi sono molto contento di vederlo tornare in casa T1 soprattutto con il roster che hanno al momento vedremo cosa ci cosa ci porterà il 2024 per quanto riguarda il competitivo e per quanto riguarda l'LCK mi tocca mettere in pausa di nuovo perché in questo momento i Weibo stanno facendo qualcosa che non dovrebbero del tutto fare ovvero hanno un goal deficit è abbastanza chiaro che a questo punto del game i T1 siano gli aggressori e che i Weibo siano i difensori quelli che vogliono allungare il game vogliono arrivare a 2 item spike sui loro carry magari 3 prendere delle battaglie e cercare di vincere attraverso questo tuttavia decidono di attaccare la base degli avversari e i T1 hanno probabilmente una risposta una risposta pronta vediamo come si sviluppa questa situazione perché qui abbiamo un Atrox in bot che ha l'aprio su Azzer e alti B abbiamo un Axia in midlane che sta prendendo l'aprio in questo momento dato che Varus è andato a farsi i polli addirittura ci sono dei ping che indicano questa possibilità per quanto riguarda jungler e support quelli che non hanno dei teletrasporti entrambi stanno giocando sul topside e Faker sta assorbendo le wave sotto torre ed è pronto diciamo a rispondere se ce n'è bisogno tuttavia deve rispettare un dive potenziale e il problema è proprio questo è che Weibo decidono di giocare aggressivi in questa zona infatti anche Belvezzale Crisp rallenta cioè stoppa il TP e qua Faker è libero di entrare perché tutti i T1 possono joinare addirittura Faker riesce quasi ad uccidere il ratto tuttavia c'è uno scudo da parte del locket di Crisp ma un leasing volante lo smite in volo quindi prendono subito la kill sul cannon riescono ad uccidere anche Barda anche Belvet prendono il TP di Shaohu ci fanno 3 kill e c'è un Baron a 20 minuti a disposizione dei T1 quindi appena parte il replay diamo un'occhiata di nuovo al macro dei T1 e dei Weibo perché i Weibo fanno un errore che non dovrebbero fare ma intanto abbiamo un Faker che prova a difendere la torre mid forse fa un pochino male il calcolo dei danni visto che non ha la ulti viene a sua volta ultato da Varus non che possa realmente morire però non riesce a difendere la struttura spreca un pochino il TP e io voglio il replay in questo momento così perfetto grazie mille regia abbiamo in questo momento 3 dei Weibo in questa posizione un quarto che può tippare quindi anche lui può joinare e un Varus che sta farmando la wave mid che è stata pushata da Guma quindi c'è un quintale di priorità su Guma Yushi che sta salendo e tutti i T1 possono arrivare e quindi l'erroraccio dei Weibo viene insta riconosciuto dai T1 infatti cosa fa Faker subito ingaggia va in pozza ha usato la prima parte della ulti trova lo shuriken sull'avversario trova anche la seconda parte della ulti e l'ultima Q che tira a Kennen viene mangiata dallo scudo di Crespa quindi qua abbiamo della sopravvivenza in più ma tenete d'occhio Lee Sin che ha preso la Q ha preso con la Q Weiwei e qua vola dentro e smita in volo il Kennen in modo da ucciderlo subito Faker ha ancora lo stop c'è la zona ha perso un pochino braccia della sua build e riesce a sopravvivere qua possono rientrare c'è anche un terzo Q flash da parte di Zeus per assicurare la kill sul jungler nemico vuol dire che il Baron non è rubabile e adesso i T1 sono 5000 gol sopra hanno totale controllo della mappa e hanno due minuti alla loro soul in più si distribuiscono in questo caso non del tutto in 1-3-1 c'è anche la torre top che cade perché Atrox si ferma a fare i polli Akali ha già un bel po' di controllo in bot quindi questa giungla può essere conquistata da i T1 tuttavia sì non riescono realmente a utilizzare questo questo Baron impostandolo rapidamente rimangono solamente due minuti prendono comunque la torre mid che non è male ma non hanno pressione in tutte e tre le lane in modo da usare questo split push in 1-3-1 c'è anche da dire che non hanno i TP sui due solo laner e di conseguenza diventa più difficile per loro rispondere se i Weibo gruppano e forzano qualcosa quindi i T1 decidono di giocarsela un po' più safe abbiamo qualche altro recall un minuto e mezzo sul Baron Buff e un pochino meno sul Drago sulla Soul quindi vedremo come queste cose si trasformano nei prossimi istanti abbiamo Zeus che push la Wave recall a sua volta e abbiamo Rakan che si muove nel fiume inferiore proprio per setupare visione e vedere se riescono con il Baron Buff a prendere un paio di strutture subito prima del Drago se non ci riescono hanno comunque il Drago in ritirata una volta che hanno conquistato questa zona i T1 sono tutti in posizione per proteggere Caria e mettere visione Caria viene ingaggiato quindi altro errore da parte dei Weibo e qui tutti i T1 collassano c'è una Zer che prova a disingaggiare un Atrox che tira una spadata in testa a Bard un'altra in testa a Velvet prova a prendere anche Varus tuttavia Varus in questo caso può chitarre un pochino in Botlane abbiamo a Zer che guardate la mobilità dei T1 è impossibile usare i soldatini in questo caso poi abbiamo Light che prova a flashare in su Zeus ma Zeus è davvero molto ciccione a questo punto non muore e questo è un Ace per i T1 hanno ancora un pochino di Baron quindi possono pushare in contemporanea possono anche assicurare il Drago infatti Honor va immediatamente al Drago mentre il suo team pusha un Atrox che ha pochissima vita è libero di pushare la botta prendersi anche quella torre e continuare a farmare intanto l'inibitor a mid cade e adesso rivedremo l'esecuzione di questa di questa giocata però parte soprattutto da piccoli errori dei Weibo e dai T1 che riconoscono l'errore e hanno la punizione insta pronta e questo fa proprio la differenza tra questi due team finita questa azione non solo hanno la Sula ma hanno anche 10.000 gol di vantaggio quasi e quindi diventa molto difficile per il Weibo rallentare il game e trovare un fighting lead game mettiamo in pausa così lo analizziamo con calma infatti abbiamo Caria che viene ingaggiato in 1 contro 2 ma la mobilità dei T1 li aiuta anche in questa situazione infatti abbiamo Atrox che passerà in questa direzione salterà al muro per arrivare subito nell'azione abbiamo anche un warjump di Honor per raggiungere subito il suo support quindi già qua nel giro di un secondo e mezzo questo diventa un 2v2 tra i due jungler e i due support ma i T1 hanno un netto vantaggio come se non bastasse Akali può chiudere da botta e Xayah ha già pushato la mid quindi può muoversi prima di Varus chiaramente Varus può abbandonare la wave per provare ad aiutare il suo team ma tuttavia rischia di arrivare in un momento dove le cose sono messe molto male questo senza contare che Azira nel momento in cui prova ad avvicinarsi ha comunque il rischio di essere assassinato da un Akali che a questo punto è gigantesca e quindi fa molta fatica a gioinare in questi spazi stretti contro un assassino e altri campioni che possono saltarne addosso e vediamo l'esecuzione perché qui abbiamo il knock up su Karia ma si vede proprio che mancano i danni e lì Sina arriva davvero in tempo record arriva anche Zeus da sopra c'è una buona ulti da parte di Shawu per cercare di disingaggiare tuttavia non abbandona la torre rimane contro Faker e Karia Karia qua è pronto ad ingaggiare Faker ne lo chiama usa la pozza e qua guardate la mobilità se siete una 0 avete dei soldati non potete usarli perché i nemici continuano a saltare dentro e fuori e qua abbiamo il tentativo disferrato di Light di fare lo shutdown metto in pausa perché è finito il replay abbiamo un'altra azione e sì Light ha cercato di prendere lo shutdown su Atrox prima di morire tuttavia non ha funzionato del tutto e qua quando torniamo in partita abbiamo Akali con TP che sta pushando la mid sta scortando i super minion verso la base nemica e abbiamo i Weibo già in posizione per cercare un pick ma il resto dei T1 di nuovo non sono fuori posizione non sono in ritardo sulla giocata e l'idea dei Weibo qua è provare ad uccidere uno Zeus che ha la Maw of Malmortius ha i Mercury i Mercury hanno un sacco di valore contro la comp dei Weibo praticamente contro tutti tranne Velvet hanno valore e ha un Ocean Soul in più è un Atrox livello 15 sul lato dei Weibo c'è un pochino di riduzione cuore proprio perché esiste l'Ignaita tuttavia per fare la kill servono i danni di qualcuno e questo qualcuno è Varus ma se guardiamo la minimappa Varus non è vicino per fare il danno e quindi qui solamente guardando come parte quest'azione possiamo pensare a come finirà quest'azione infatti anche quando l'ho guardata in live super hypato a questo punto del game nella mia testa Zeus non poteva morire proprio perché i Weibo non stavano organizzando bene la giocata il tentativo di fare un pick prima del push dei T1 e vediamo cosa succede perché appunto Zeus poppa subito la ulti e trova una terza Q su praticamente tutti loro in questo momento viene anche ultato da 0 sotto la torre che viene costruita ma tutti i T1 arrivano Zeus riesce ad andare addirittura in Duskblade con la prima kill che trova e questa è solo una pulizia per tutto il resto dei T1 Varus arriva davvero troppo tardi non può fare niente Karia va a inseguire una Velvet solo per impedirle di recallare e tutti i T1 collassano sul Nexus con il TP di Zeus dato che hanno i super minion e questo è il momento in cui i T1 vincono il mondiale per la quarta volta soprattutto nel caso di Faker dato che gli altri sono troppo giovani per aver vinto i primi tre titoli e quindi congratulazioni a T1 su questa splendida vittoria per tutte le sfide che hanno affrontato contro i team cinesi essendo l'ultima speranza della Corea e soprattutto una fantastica dimostrazione che dopo dieci anni Faker è ancora in grado di vincere un mondiale ne approfitto per ringraziare tutti voi per questo bellissimo viaggio che avete fatto in mia compagnia chiaramente l'abbiamo finito un po' in ritardo rispetto a quando i mondiali sono stati giocati davvero tuttavia apprezzo davvero tutti i vostri commenti i vostri like tutto quello che mi dite dopo ogni partita quindi grazie davvero a tutti voi per queste partite che abbiamo visto assieme e ci becchiamo l'anno prossimo per altro competitivo buone vacanze e alla prossima ciao ragazzi ciao ciao